Quella che sta parlando con Tania sta parlando, senti che cretino, ce l'hai con un cretino laggiù? Porca maia la mignotta, ma fa un pulazzo! Che ha fatto? T'ha avuto? Chi è uno lui? Che cane è? Un filo della mignotta, chi è? Abbiamo anche il micino, o no? Come il chiamiamo il micino? Mamma mia cazzo, a me come chiami? Come il chiamiamo il micino o no? Come il chiamiamo? Pasquale! Sale sale c'è Pasquale, Pasqualino gattino, il micino, Pasqualino, Pasqualino, il micino Io lo chiamerei sto gatto, da me sto gatto mi piace, sto gatto guarda guarda Che stai fa? Sto che non mi cambia Che? E' la pigiare il 4 E levati Pigia quello che alza il 4 e il 5 E levati Vedi come la fa? E' la salzizzo 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 Guarda gliene da ridere sotto i baffi E' la pigiare l'Ok Il prezzo è giusto, vai E' la pigiare il torcola Qu'era pigiare?